Ricetta. Insalata di farro con oca affumicata e yogurt, facile e deliziosa. Insalata di farro con oca affumicata e yogurt. Ingredienti. Farro QB. Oca affumicata QB. Yogurt QB. Olio extravergine d'oliva QB. Sale QB. Preparazione. In una pentola, cuoci il farro in abbondante acqua salata. Fai raffreddare il farro e mescolalo con l'olio extravergine d'oliva. Metti l'oca affumicata a dadini e mescola insieme al farro. Aggiungi il sale a piacere. In una ciotola, mescola lo yogurt con il farro e l'oca affumicata. Metti l'insalata in un piatto da portata e servi in tavola.